bella a tutti ragazzi qui come c'è AngeloGamer04 e si state vedendo benissimo mi sono fatto un completo abbastanza moddato clicciato e oggi vi voglio spiegare come farlo ovviamente anche per voi senza nessun mod menu dovete andare su in qualsiasi negozio comune anche di vestiti andare su completi vicino alla cassa ovviamente completi tute vi dovete comprare lo sterminatore oppure uno di questi tre però consiglio lo sterminatore poi con lo sterminatore dobbiamo ritornare al volo a casa dopo che l'avete comprato ovviamente torniamo a casa mamma mia ok ragazzi siamo arrivati a casa bellissima l'animazione delle nostre quattro palme sotto casa, l'uniche quattro che avevo ok entriamo dentro casa con questo completo abbastanza di merda però è fondamentale nel glitch poi però dovete crearvi un completo per voi lo dovete salvare per esempio io mi sono fatto questo qui facciamo finta adesso un secondo che mi levo passo a montagna tutto nessuna maschera vi dovete mettere anche il copricapo calchi antiproiettili uno di questi tre che vi piaccia mettete questo lo salvate così modifica i completi salvati modificalo al posto di guerra boss ok salviamolo completo salvato usciamo ovviamente con questo qui ormai di completo dobbiamo andare su completi tutte dopo che abbiamo salvato il nostro completo dove vogliamo mettere la maschera anche voi lo dovete fare non per forza uguale al mio tiate lo sterminatore andate vicino al letto qui dove vi compare la scritta premi freccetta destra per andare a letto aprite il telefono andate su partita veloce avvia una partita casuale da solo sei sicuro? sì quando lì sotto vi inizierà a fare il conto dovete accettare la missione di Gerald e premere subito la freccetta destra per andare a letto il giocatore vi farà l'animazione appena entrate lì dentro uscite subito e il giocatore o vi spawna in piedi oppure così sdraiato aprite il menu del giocatore andate su inventario accessorio il completo dove vi siete salvati quello lì eccolo qui poi alzatevi e boom per magia vi comparerà la maschera benissimo poi ve lo risalvate perché se no scompare guerra boss perché ti metti la pausa sì sì me lo voglio salvare poi gioco ok guerra boss completo salvato però non potete cambiare nessun accessorio perché se no vi si leva la maschera completo il canale cattivissimo e niente ragazzi per questo video è tutto spero che vi piaccia il glitch raggiungiamo 10 like per un prossimo glitch che ci proverò a farlo e niente qui con voi c'era angelo chimer 34 bella grazie a tutti grazie a tutti